Forza ragazzi! Bilancio l'avversario e tenere l'approccio, va bene, andiamo a provare, giriamo, bilanzo, stai dai dai dai, più veloce dai, si può fare di meglio eh. Noi ci siamo liberamente ispirati a un uomo, a una famiglia possiamo dire, a un padre, a un figlio e a una famiglia intera e quindi sto parlando di Gianni Maddaloni, di Pino Maddaloni, la famiglia, la palestra, l'ambientazione, quindi scampia. Giudo, viene da due parole il giapponese, giù, che vuol dire morbidezza, armonia e do, che vuol dire via. Grazie a tutti.